Ehi, l'ha! Mi pare che debba essere sacrificato a questa bestia. Puoi cercare una specie di manovella, magari? Qualcosa per riportarmi a terra? Oh, che meraviglia! Ammira la bestia! Del figlio di sto povera! Forse dovresti occuparti della bestiola prima di pensare a me. Oh, che meraviglia! 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 Sì, 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 sì. A te ci penso io. 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 Ciao ciao! 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 ! Ciao! Ciao! ! 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